dura 40 giorni ho letto che nella danza delle api l'ape operaia esegue una serie di otto figure formando una sorta di otto inclinato la quantità di tempo trascorsa nella parte centrale dell'otto indica la distanza dalla fonte di cibo mentre l'angolazione dell'otto rispetto alla verticale indica la direzione rispetto al sole come si spiega che questi piccoli esseri la cui vita dura 40 giorni possano usare un linguaggio così complesso commento si spiega con la mente istintiva universale che domina l'anima gruppo di cui fa parte l'alveare la mente istintiva è la stessa che permette all'umano di guidare l'auto senza pensare alla guida